Ok, è quasi mezzanotte e da questo momento non si può più ufficialmente usare internet. A chi resisterà più tempo di sconnesso infatti invierò come premio delle criptovalute che potrebbero renderlo fra qualche anno potenzialmente milionario. Allora, le regole sono semplici, tutti offline in modalità aereo, così il nostro notaio può mandare un messaggio in una chat con tutti i partecipanti. Quindi da adesso se qualcuno si connetterà ci risulterà che ha ricevuto il messaggio. Così vedremo in che ordine appariranno i nomi e chi sarà il vincitore. L'obiettivo è ritarare i nostri livelli di dopamina rovinati principalmente dall'uso di internet. Se vuoi la spiegazione completa recupera il primo video di questa serie sul detox dal link da qualche parte in descrizione. Ma ora per me è tardissimo, quindi si va a letto. Ciao Facciamo un digital detox? La tecnologia fa male, così ci disintossichiamo. Sì, però io ho Alexa che mi gestisce le luci, come faccio a scenderle se non posso stare in internet? Buongiorno, sono le otto. Il cellulare è stato riposto e ovviamente la videocamera è l'unica cosa che posso utilizzare per documentare questa mia giornata. E quindi iniziamo, anche se cosa faccio? Chissà cosa stanno facendo gli altri. Buongiorno. Buongiorno. Ciao carissimo, dormito bene? Dai ci vediamo più tardi. Allora, qui sono appena le 10 e ho già fatto tutto quello che potevo fare in casa. Ho lavato i piatti senza poter guardare niente su YouTube. Ho provato a fare la barba ma non potevo neanche mettere un po' di musichetta di sottofondo, quindi l'unica è uscire di casa. Anche perché qui è pieno di distrazioni. Intanto, per caso qualcuno ha ceduto? No. Nessuno, maledetti. Chissà cosa stanno facendo loro. Il bello di avere una palestra è che, anche se è ancora tutto chiuso al pubblico, tu ti puoi allenare. Visto che non posso controllarla da altre parti, oggi questa sarà la mia scheda. Ora, non avevo considerato quanto è noioso allenarsi senza musica. Ok, basta. Visto anche l'aura di silenzio in cui mi sto allenando, direi che per oggi può andar bene così. Chissà loro senza una cosa così a disposizione come stanno passando la mattinata. Direzione Lago di Garda senza Google Maps. E così, un po' alla cieca e un po' a ricordo senza utilizzare Google Maps, riusciamo a vedere posti che non avevamo mai visto prima. Scusa ma siamo arrivati a pranzo, qualcuno l'avrà sbloccato. No. Ora, prima di pranzo, volevo suonare un po' il pianoforte. Ok, a pranzo ovviamente la domenica a casa dei genitori. E già che sono qui... Ah, finalmente possiamo scrollare un po' di... Ah no, com'è che si dice? Sfogliare. Sfogliare un po' di foto. Ma un bambino così, che gli devi dire? A pranzo però ci fermiamo, dove per un attimo anch'io voglio ingannare l'attesa controllando email, social, app di messaggistica. Ma no, non cedo. E ora prepariamo una partitina a scacchi offline. Come tutte le cose belle, prima o poi finiscono. E purtroppo è arrivato il momento di tornare a casa. Ok, dovete sapere che nei giorni scorsi mi ero tatuato esattamente l'orario in cui avrei smesso questo mio detox. E infatti il tatuaggio dice... Le 17. Tra l'altro la batteria è ancora esattamente al 100%. Ecco forse perché i vecchi Nokia duravano giorni e giorni. Alla fine si poteva solo telefonare, mandare messaggi e giocare a Sneak. Ok, visto che ormai sono online, inizio a comprare un po' di cripto che manderò al vincitore. L'idea è quella che facciano nel percorso di prezzo che ha fatto Bitcoin. E quindi fra qualche anno loro si ritrovino milionari. D'altronde se qualcuno ci avesse regalato qualche decina di Bitcoin quando costavano pochi centesimi, oggi avremmo facilmente mezzo milione di euro. E' giunto il momento di tornare a lavorare. Ok ragazzi, ci siamo. E' il momento di accendere il telefono. 24 ore di Digital Detox. Et voilà! 22 febbraio, 0 secondi. Missione riuscita. E' giunto il momento. Riattiviamo il wifi e la collezione dati. 55 messaggi da... Ho vinto! Iscriviti al nostro canale!